Musica, news, sport, every day for you on the web, leccochannel.it, the blue light, blue radio. Proseguono i lavori di ammodernamento dello stadio Riga Monticeppi in vista della prossima stagione di Serie C della Calcio Lecco 1912. Alla presenza dell'assessore comunale Corrado Varsecchi e del geometra responsabile dei lavori Angelo Selva si è svolta oggi un'altra importante giornata all'interno dell'impianto comunale che, come potete vedere, sta mostrando la sua prossima faccia, la grande scritta Lecco sulla tribuna centrale e la seggiolatura dei distinti già completata. In un secondo momento verrà completata la parte centrale della tribuna, già terminata invece la parte laterale con la scritta blu celeste che campeggerà sul manto erboso in vista del prossimo campionato professionistico, il primo dopo nove anni di assenza dalla terza serie nazionale. Musica News Sport Every day for you on the web. Lecco Channel.it, the blue light, blue radio.